A Montoro e Alvomano l'associazione Il Monte d'Oro ha presentato la campagna Alcol e Guida più sai meno rischi, il cui obiettivo è quello di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche. Un'iniziativa promossa nel comune montano in onore del trentesimo anno di attività dell'associazione, presieduta da Biagio Di Giacomo che da anni lavora per iniziative a sostegno del territorio. L'associazione Monte d'Oro di Montoro e Alvomano compie 30 anni. Il presidente dell'associazione Biagio Di Giacomo per festeggiare la trentennale opera di questa associazione e di chi opera sul territorio ogni giorno per favorire l'aggregazione giovanile e prevenire le situazioni di disagio in stretto raccordo con il comune che ha patrocinato con il BIM e le altre istituzioni locali, di ASL, scuole e associazioni sociali, ha inteso operare un progetto dal titolo Alcol e Guida più sai e meno rischi. Il progetto prevede la distribuzione in tutti i bar ed esercizi pubblici dei comuni del comprensorio Gran Sasso Laga di un vademecum tascabile per prevenire i rischi dell'abuso di sostanze alcoliche tra i giovani e i giovanissimi e di etilometri monouso offerti dalla ditta Soffi e Sai. È un decalogo delle regole per guidare in sicurezza dal momento che l'alcol agisce su diverse funzioni cerebrali con effetti diversi e direttamente correlati al tasso alcolemico. Poi il richiamo alle norme e sanzioni vigenti ai sensi del codice della strada, i numeri del servizio taxi e altre indicazioni utili. Per questo l'associazione ha ritenuto utile e necessario dare questi brevi semplici consigli. Uno dei primi progetti in provincia che sa prevenire i rischi e tutelare la salute propria degli altri sulla base di due semplici principi che non devono venire mai meno rispetto e consapevolezza.